Torna il rito della colazione al bancone del bar tra mascherine, distanze e sanificazioni. Anche al tavolo, servito possibilmente dallo stesso cameriere, deve essere rispettata la distanza minima di un metro tra un cliente e l'altro. Meglio stare all'aperto e utilizzare sistemi digitali di pagamento. Regole e ferre, sì, ma che consentono di ripartire, magari con un buon caffè. Come quello che oggi FanoTV ha voluto offrire ai telespettatori, grazie al coupon presente nell'applicazione gratuita di Occhio alla Notizia. Il cliente, mostrando il buono al cassiere del bar, al Pincio di Fano, ha potuto così iniziare la giornata con la giusta carica. Ma senza la consueta lettura dei giornali, il cartaceo infatti rimane vietato sia al bar che dal parrucchiere. È emozionato? Sì, è emozionato e partiremo adesso nel fine settimana a pieno regime, con i tavoli distanziati, le sedie a un metro di distanza una dall'altra, all'interno ci saranno dei totem igienizzanti in tutte le porte, entrate e uscita, così come alla cassa, dove ci saranno anche delle barriere in plexiglass per evitare i contatti con i clienti il più possibile, adesivi a terra calpestabili per dare più informazioni possibile, così anche sulle panche. Il menu? Il menu li porteremo al tavolo con delle lavagnette e portatili che porteremo via poi ogni volta fatta l'ordinazione e questo è più o meno il riassunto della situazione del locale. E mentre si attende il ritorno alla normalità si stanno studiando piattaforme digitali per agevolare turisti e ristoratori. Volevo fare un augurio per una buona ripartenza a tutte le attività, respiriamo un po' di aria fresca ma servirà ancora tanta responsabilità e un consiglio a tutti, consumiamo cibo italiano, consumiamo cibo del nostro territorio perché aiuteremo tutti. Il turismo non sarà più quello di prima, sarà un turismo di vicinanza e quindi abbiamo pensato di rendere appetibile, di comunicare quelle che sono le nostre attività. Abbiamo già una guida all'ospitalità per le strutture ricettive, abbiamo pensato di farla anche per il mondo della ristorazione e per il mondo dell'oraca, anche in digitale, con la possibilità di avere una vetrina appunto su queste attività ma anche con la possibilità di prenotare direttamente tramite questa applicazione un tavolo all'interno del ristorante e all'interno del bar. A giorni in città tornerà anche il mercato settimanale, il comune di Fano è al lavoro per apportare alcune modifiche sulla disposizione delle bancarelle e sulle misure idonee a garantire la sicurezza dei cittadini. Realizzeremo delle corsie a senso unico per fare in modo che le persone possano girare correttamente all'interno del banco, dovremo liberare alcune vie che non rendono possibili questa attività, ad esempio via Galeotto Malatesta che porta da Piazza 20 Settembre a Piazza Andrea Costa, dovremo dividere le merceologie, in Piazza 20 Settembre ci sarà il nuovo, in Piazza Andrea Costa ci sarà l'alimentare e anche una parte del nuovo, in Piazza Veduti ci sarà il mercato dell'usato. Come dicevo ci saranno delle corsie a senso unico ma molto semplici che renderanno fruibili il mercato, servirà una grande responsabilità a mantenere le distanze di sicurezza, ad aiutarci a far sì che il mercato sia bello come quello che l'abbiamo conosciuto e sia funzionale per la città. Grazie.